Abbiamo 10+, un integratore alimentare a base di carnitina, taurina e vitamina B3 o niacina. Carnitina serve per produrre all'interno del nostro organismo energia e abbruciare più velocemente il grasso che si trova soprattutto nelle nostre riserve, quindi un ottimo alleato per chi deve perdere peso e deve avere energia. La taurina ha una grande qualità, quella di rallentare il processo di invecchiamento, perché è un ottimo antiradicale libero e non solo è un forte agente vasodilatatore. Invece la vitamina B3 o niacina è fondamentale per la respirazione delle nostre cellule, quindi importantissima anche per tutto il nostro apparato circolatorio e infatti favorisce anche la produzione e il mantenimento del colesterolo buono contro ovviamente il colesterolo cattivo. Quindi a chi lo consigliamo? A tutte quelle persone che sono sportive, quindi hanno bisogno di energia, a tutte quelle persone che vogliono perdere peso, comunque riattivare il loro metabolismo, ovviamente sempre abbinato a una sana alimentazione e un po' di movimento che non fa mai male, a chi magari ha un po' tendenza ad avere colesterolo cattivo rispetto a quello buono, è sicuramente un grande aiuto, è un ottimo radicale libero, quindi sempre anche contro l'invecchiamento per tirarci un po' su a livello anche mentale e non solo fisico, perché comunque quando si ha più energia sicuramente ne va a giovare non solo il nostro fisico ma anche la nostra mente. Come si assume due pipette sotto la lingua al giorno o quando ci si sente un po' fiacchi.